e siamo ancora qui su sta merda di gioco madonna costo quadrato napoletano non riesco a fare il primo livello io so troppo forte sti giochi dove dove deve essere forte so fortissimo allora lo avete me l'avete detto in 200 mila miliardi in quanti siete l'avete detto in 3 milioni di rifare sto gioco porca puttana all'anem e kit stra vola dei vola 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 alla pe maglia madò non la sopportare no sopporto ok il primo tentativo sta andando bene ho parlato ma c'è una grande figura di merda lo devo stare concentratissimo ma proprio concentrato non hai capito in che maniera madò madò non sto capendo un calcio diventa ipnotico sto gioco c'è l'euro ma non so come prendere aiuto no 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 guida guida bene guida bene guida 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 dai gianguito guida non ci credo 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 completato il primo livello primo tentativo non ci credo ma donna ci credo adesso ci rimane questo bacio bacio trac bacio sparatrac vai allora raga il record mondiale sono riuscito a fare il primo livello sono un pro questo qua adesso non lo riesco a fare neanche 10 episodi no toni ma questo qua non lo riesco a fare neanche 10 episodi se sono riuscito a fare il primo gli altri non riesco a fare mai questa è la regola ti prego ti prego regalami pure quest'altro livello madò ho iniziato il video col botto fammelo finire col botto no 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 guida 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 guido caiazzo mi chiamava all'anima dai ti prego fammi completare pure questo dai dai ti regalo una pizza una margherita vera napoletana aiuto la vera pizza la teniamo qui a napoli aiuto che sto facendo che sto facendo i culi sto facendo i culi i culi madò 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 porco di mi è caduto il porco dio di ventilatore in testa ma sto ventilato di merda ok prossimo livello ce l'ho fatta c'era che a vedere sta cosa mi fa paura allora dobbiamo fare poltergeist vai andiamo a fare poltergeist madonna ok madonna ancora più madonna 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 ok se riesco a fare tre di fila eh ste parian vabbè dai è fattibile la prima parte è fattibile poi dobbiamo vedere come il resto io quella navicella infame una regola è chiara se il tuo telefono non funziona bene lo schermo con sto gioco col cazzo ci giochi non ci vuoi giocare ma no no non dovevo saltare non dovevo saltare mamma ti fa buona notte e prima prima ricevo buona notte fanno qui notte poi ricevo buona notte non ci capito niente manchi basta che continui a premere lo schermo poi fa tutto da solo sto pari anno stai pari anno stai pari anno stai pari anno vai piano vai piano ma non si può fare tipo il livello a 2 all'ora mamma devo a 2 all'ora mamma te te ne piedi che non so buona dai dai ma perché ma perché ma perché dai fallo per le views così questo video io dico ho fatto tre livelli di fila come on come on mannaggia 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 ti mando peppe a casa se non me lo fai vincere ma do oh non sto capendo un cazzo no raga non sto capendo niente non sto capendo niente non sto capendo niente piano ah dai chi c'è aiuto chi ha cagato chi ha cagato chi ha cagato chi ha cagato hanno cagato hanno cagato ti prego ti prego ti prego ti prego ma è difficilissimo è difficilissimo nooo 48% col cazzo che cazzo ho fatti checkpoint poi proviamo dry out che livello è questo di merda un livello di merda eh stavo dicendo allora che livello è questo e tu quando mi dici che livello è questo tu mi dici che livello è questo motivo completo questo non ho completato quello di prima e mi incazzo ma do ma do ma do ma do nooo è fattibile è fattibile è fattibile la prima parte poi il resto non ho parlato ho parlato oh e credo ok c'è stato un piccolo momento di sofferenza ma adesso ma adesso adesso butto il telefono nel cesso vaffanculo 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 devo fare conto poi a quanti tentativi ci ho messo per fare sta merda siamo a nove siamo a nove siamo a nove Piero siamo a no Piero siamo a dieci il mio voto nel non fare un cazzo ma se porca di quella puttana ma a sto quadrato gli hanno ficcato le meglio gli hanno guarda con che faccia questo quadrato ha visto cose che nessuno sulla faccia della terra ha visto per avere quella faccia una faccia da ebete sia un ebete ma necce ma necce ma necce ma necce gesualda gesualda club work bastard prossimo eeeh non è che questi qua ce li ho fatti vabbè proviamo questo perchè io mi voglio male proviamo quest'altro se io la voglio ancora peggio che cazzo devo fare che c'è cioè me lo spieghi poi che devo fare perchè c'è ma buca mamma da caccia fa ma neeeh che è successo se non sto capendo un cazzo non sto capendo un cazzo non sto capendo un cazzo un cazzo un cazzo 5% sono felice proviamo questo dai ma questa è una cagata ho parlato ho parlato ho parlato ho parlato ho parlato dai vado di qua vado di qua salto 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 che ammazzo andare e poi ma ricetta ok ho superato quella parte di merda no questa è una parte di merda questa ma che buca mamma da sti facce mi sono distratto ecco perchè non devi mai usare il telefono alla guida e manco quando giochi a geometri da sospiro come cazzo pazzi se non usi il telefono dai che ce la posso fare ce la posso fare ce la posso fare ce la posso fare cazzo non so manca quanti tentativi sto a quanti sono arrivato non su un cazzo mi sono dimenticato pure dove sono nato veramente sono nato ma ricordo tentativi 6 quello l'abbiamo capito let's go let's go let's go brother let's go let's go dai che stiamo tutto aggressivo stiamo stiamo 20% sono arrivato al 20% prossimo livello andiamo fratmo allora sal ma quello spillo di merda sti illuminati qua a terra ok questo questo è il più schifoso di tutti mi sa e io non riesco a farlo ma do ma do voglio le medaglie voglio le medaglie voglio le medaglie per quello che ho fatto a inizio video voglio le medaglie per quello che ho fatto a inizio video cazzo c'ero ci sono c'è sono non ho c'è 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 stavo scherzando sei bellissimo ma chi te sape chiamo il mio cane questo livello lo fa meglio di me il mio cane la mia cagna dopo la devo controllare un po sotto devo vedere se che femmina sta qua sto qua chi cazzo si chi ti conosce ma doma 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 dai che c'è dopo questo faccio l'ultimo tentativo se ci riesco se non ci riesco perché studia l'effetto non so chiaro l'ho detto prima ma penso che già lo sai allora ultimo tentativo poi basta facciamo che questo è l'ultimo tentativo dai dai che ce la devo fare vado se non parlo è perché mi sto concentrando a massimo che è perché è tutto nero non si capisce niente no bianco nero juventini di merda no ma ne devo scappare da qua non posso morire nel livello dei juventini dove cazzo sto andando ma vaffanculo basta basta mi sono rotto le palle basta esci da sta merda esci esci sto quadrato di merda chiavati gli spilli in culo sto quadrato infani